Hello guys, Ryan here Benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale Oggi non solo da solo su Call of Duty Black Ops 3 Ma sono con Joseph the Gamer Ciao ragazzuoli E Sbuci Ciao Lini E l'ultima volta mi sa che abbiamo portato sul mio canale un video di Destiny O qualcosa di simile Oh, guarda, 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 guarda Madonna, Madonna, niente C'era un bordello di gente su B ragazzi Sì Erano tre e sono stato in grado di ucciderne solo uno E grande Joseph Mi sono lanciato, faccio queste cose che mi lancio No, 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 ce n'era uno dietro la, uno dietro la roccia Benissimo, ho capito bene, Joseph fa il paracautista Esatto E cose che si lanciano Bucci, via, via, quella è la porta E intanto, quella è la porta, 0-2 sbuci E io sto andando di merda Sì, sì E che lo dici Ehm... E sono... Questa è tipo la terza partita che giochiamo di fila per registrare E c'è qualche problemino nel nostro setup di team Diciamo che escono solo mappe di cavolo Sì, in effetti questa... Sai che è la prima volta che la faccio? Quindi figurati Ehm... Parla di cosa? Di cosa parla sempre Oggi è sottigilio Sì, oggi l'argomento principale dei nostri canali è pareti vaginali Sapete cosa sono? Se non lo sapete c'è Wikipedia Però diciamo che non siete obbligati ad andare così No, ecco, semmai evitate Ehm... Fatelo da soli Ehm... Ehm... Ecco, a posto Ehm... Signori, se mi volete venire a trovare da domani Avrò un'ora d'aria al giorno Intanto... In carcere In carcere Uno, sette Beh, dai Vi dirà così, ste Puoi solo migliorare Sì, avevo detto Siamo tutti uguali Ehm... Un'otto Ma com'è possibile che mi usciottano in un colpo ogni singola volta? Ehm... Perché loro possono, capisci? Cioè, questa è la differenza tra loro e noi Tua madre è una leggenda Ok Esatto No! Non ci credo! Era fermo! Sì, ma io di Junior Ma... Le palle! No! Le palle nel senso... Per rimanere in tema di Dragon Ball Le tue oppure... No, no, no Intendo... No, le raps No, le raps Come cavolo si chiamano? No! No, ragazzi Non parlare... Volate di continuo Ma vedi, qua si parla di pareti vaginali No! Ma che cazzo è un casting di un film porn? Oh cavolo, me ne è passato un affianco Com'è possibile che io sia ancora vivo? Andiamo via da qua No, no, no Per nulla Allora... Guarda, 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 guarda Mori, mori! Oh, è morto Nooo... Perché lo prendiamo, B! Dai, dai Oh, via la palla, la palla Arriva la palla! Via nell'acqua Ma nell'acqua non ti proteggerà Madonna mia Che uccisione Non è impossibile Oh, che poi sul secondo in classifica questo appunto un teggio bruttissimo Vai, vai! Questo ti fa capire quanto siamo pro No, no, no Che gioco di merda Ho fatto una kill incredibile Sono saltato dall'acqua in aria Ho fatto una kill in aria Poi sono ricaduto in acqua No, no Questi hanno la mamma Che fa la leggenda Ahhhh Tutti Tutti Sono una mamma cattiva Ma c'hanno... Loro non mamma, mi devo ancora dare il resto di 50€ Non dico per cosa, però... È possibile mai che continuo a spawnare nello stesso posto? E muoio sempre nello stesso posto? Certamente, perché questo è un gioco simpatico quanto la loro madre Ahhhh Tipo il mio punteggio a 8-17, no? Perché sta andando molto bene Deve essere molto divertente vedere questo gameplay Oh mio Dio Pocca miseria, guarda questo com'è Guarda, 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 guarda 28 persone... Ma perché sono tutti insieme? Vanno insieme Mi one-shotano tutte le volte Manco fosse un tag team su Pokémon, porc'è Ecco, e sono morto No, l'ho perso E sono anche morto, perché stavo correndo su una parete e sono caduto Hashtag Randy non mentire, non sei capito? Ma sì, c'è il video Perché non mi credo? È quello lì, è quello lì, guarda No, sono quello... Sì, guarda, guarda, sono lassù Guarda, guarda Quello muore e io casco, guarda Cazzo morto Cazzo morto Oh, Gesù Invertiamo le partite, ma... Meno male Ma il Kuda è la sorella del culo... Eh, del... No, eh Del Kula No, 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 no Io mi rifiuto Eh, sì Di sentire queste battute e di morire in questa maniera il pipì Vai! Due di fila, macchina da guerra negata Eh, troppo pro questo Joseph Adesso aspetta che chiamo il team MLG italiano e vedo se ti prendono Ti prendono si va per il culo Esatto Che lascia fare comunque sia Questa vita triste Aspetta Stefano Questa, questa tua affermazione potrebbe essere un po' fraintesa Devi dirci qualcosa Ok, ricordo Non è male essere presi per il culo dal team MLG Ah, ok Allora sì Tutto a posto Tutto chiaro No, perché sai... Aspetta, Joseph, c'è un cattivo ragazzo Ma non ci credo Guarda quello che si mette in combina Fulmine e 722 Fulmine e 722 Che cazzo è? Sembrano... Sembrano tipo gli hashtag Tipo banana33, no? Hashtag rendi... Rendi e dici qualcosa Attenzione Io sto recuperando Stai non dire queste cose Perché poi... Sei vero? Cosa succede? Mamma mia E' buon per te Qualcuno che mi dà la mano a prendere B? Bravissimi E' muoio Certo che... Sono sessioni di gioco davvero pessime Abbastanza Ma dovete sapere la verità Io riesco a giocare solo in deathmatch Non so perché Cioè io in deathmatch gioco bene Qualsiasi altra modalità Anche se è deathmatch con un altro nome Gioco male, non so perché Poi sto registrando Poi sto registrando Cosa cosa mi dico Doi buzzi Non ci pensavo Chiudi Questo ci sarà nel video Che senso Ci ho pensato dopo Ho detto... E' lì che parlavo Ho detto ma aspetta sto facendo qualcosa io Questo è stato bellissimo E' euforia time Oddio sto piangendo Però è tutto reale No 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 E' il bello della diretta Guardalo 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 Muori Oh mi sento troppo pro Ho scaricato un caricatore addosso a un tizio per ucciderlo però mi sento troppo pro Io sono recuperato adesso Sbuchi Vaffan cuore E beh ma stai è solo merito del minestrone Ecco il minestrone Ragazzi mangiate tanto minestrone che fa bene Esatto Diventate dei profi cod Guardatelo che schifo Cos'è quella fibra Che cavolo ho combinato Ha ucciso tutta la squadra Non ne ha mancato uno Io campero come uno schifoso A vostra madre piace il ca No no il piffero Il flauto magico A vostra madre piace la chitarra elettrica Esatto Bravissimo La fisarmonica Oppure Potrebbe essere Vostra madre si fa suonare come una fisarmonica Capisci O la fisarmonica No Si anche Tira fuori il minestrone Esci 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 il minestrone Voglio tutto io il minestrone Ma vaffanculo No Si dice Vaffanculo Certo Ma che guarda Che punteggi che stiamo a fa' Questo E' quello che succede quando diciamo tutte cazzate e non ci concentriamo Esatto Cioè io non vorrei dire ma Buci quasi quasi c'era E c'era vicino Io e Joseph Eh Eh Meglio non aggiungere altro Guarda Ora facciamo così Io ho appena messo una mano sulla seconda colonna E vedo solamente le uccisioni Siamo andati bene però cavolo 16 uccisioni Signori spero che questo video vi sia piaciuto Questa partita vi sia piaciuta Io ringrazio Sbuccio e Joseph per la compagnia Noi ci vediamo al prossimo video ed enjoy e cranesa con voi Bye bye Ciao Nini Ciao